In ambito fotografico si parla molto spesso di corpi macchina e di ottiche. Oggi in particolare vado a parlarvi di quelle che secondo me sono tre ottiche che prima o poi dovremmo avere nel nostro zaino fotografico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia. Ho diverse lenti nel mio zaino fotografico ma non le porto sempre tutte con me. Infatti scelgo di volta in volta qual è l'ottica più adatta in base a quello che devo fare. Quindi per esempio se devo fare una sessione di solo ritratto magari mi posso portare un 35mm e un 85mm. Se invece sto facendo foto di intermi mi prendo un 14-35mm così con una lente sola riesco a fare tutto. Insomma sicuramente l'attrezzatura gioca un ruolo molto importante perché a seconda di quello che ci portiamo dietro riusciamo o non riusciamo a portarci a casa il lavoro. Nel video di oggi vi vado a raccontare quali sono secondo me tre ottiche, solamente tre ottiche con le quali si riesce a coprire il 98% delle casistiche. Prima di cominciare però vi ricordo se non l'avete ancora fatto, se è la prima volta che capitate sul mio canale di iscrivervi subito cliccando il bottone qui sotto se no poi ve lo dimenticate. Lasciate anche un bel like a questo video così mi date una grossa mano. Dunque le lenti di cui parleremo oggi sono un pochettino trasversali nel senso che la maggior parte dei brand ha prodotto delle lenti con queste lunghezze focali per un motivo semplicissimo, perché sono le più diffuse e sono quelle con cui tutti gli utenti riescono più o meno a fare tutto quello che gli viene in mente, sia agli amatori sia ai professionisti. Io vi parlerò nello specifico di casa Canon perché sono quelli che utilizzo maggiormente ma ho avuto modo di vedere che per esempio Lumix e Panasonic hanno una linea molto simile so per certo che Sony ha una linea molto simile, ho visto che Nikon ha comunque una linea molto simile diciamo che i brand un po' si rincorrono in queste cose, quindi se esce una lente rivoluzionaria per un brand probabilmente gli altri glielo copiano prima o poi, quindi io vi vado a parlare di Canon ma le lunghezze focali che vi vado a nominare poi esistono per tutti i brand quindi qualunque brand stiate utilizzando probabilmente trovate esattamente la stessa cosa. Cominciamo con un must che io per esempio non possiedo, ovvero il 70-200. Il 70-200 è una lente molto bella, un'ottica molto costosa che troviamo però declinata in diverse forme perché abbiamo l'f2.8 stabilizzato, abbiamo il non stabilizzato, abbiamo l'f4 stabilizzato e l'f4 non stabilizzato quindi è la stessa lunghezza focale però con prezzi diversi e con caratteristiche lievemente diverse. Ora non sto a dirvi quale dovete comprare tra questi modelli perché in questo video parliamo solo della lunghezza focale Per quanto riguarda la lunghezza focale in questione, 70-200 è una lunghezza focale bellissima perché innanzitutto nella maggior parte dei casi avremo un diaframma fisso quindi che sia 2.8 o che sia f4, se noi zoomiamo rimane f2.8 o rimane f4 a seconda di cosa abbiamo comprato quindi non diventa 7.1 quando andiamo a zoomare nella maggior parte dei casi poi esistono anche le versioni meno costose per alcuni brand che hanno dei problemini di diaframma però quelli belli diciamo hanno il diaframma fisso con un 70-200 riusciamo a fare un sacco di cose perché possiamo fare fotografia sportiva, fotografia naturalistica, ritratto, foto in studio, fotoprodotto insomma riusciamo a fare veramente tante cose ed è una lunghezza focale a mio avviso molto bella anche per i principianti perché? Perché comporre con un teleobiettivo tendenzialmente è più facile infatti quando noi zoomiamo avanti adesso io non posso zoomare perché la mia è una focale fissa però se io andassi a zoomare avanti andrei a ritagliare la porzione centrale quindi perderei magari quelli che potrebbero essere considerati elementi di disturbo se ci fosse solo la mia faccia nel frame sarebbe più facile comporre la scena non ci sarebbe più nessun elemento di disturbo questo è esattamente quello che succede quando utilizziamo un'ottica zoom soprattutto quando utilizziamo un telespinto come il 200 mm è molto più facile comporre perché andiamo a prendere esattamente quello che ci serve lo sfondo viene sfocato e quindi è più facile realizzare delle belle foto con un'ottica del genere è una lente molto bella con un'ottima nitidezza come detto se prendiamo quelle belline con lo stabilizzatore e con un buon diaframma rimane un'ottica versatile con cui riusciamo comunque a fare diverse cose anche se comunque vista la lunghezza focale è molto più adatta a contesti sportivi o naturalistici o di ritrattistica piuttosto che a un utilizzo di tutti i giorni questo va detto per questo motivo oggi non trattiamo solamente di questa lente ma andiamo a vederne anche delle altre in particolare scendendo abbiamo il 24-70 il 24-70 è forse l'ottica più diffusa nell'universo perché è lo zoom standard per eccellenza 24 mm ci garantisce un grand'angolo standard abbiamo il 35, abbiamo il 40, abbiamo il 70 mm quindi praticamente ci fornisce tutte le lunghezze focali grosso modo standard è pur sempre vero che gli manca l'85 mm cosa che a me dispiace tantissimo ma per questo eventualmente ci sarebbe il 24-105 che è un f4 ma che include anche l'85 e il 100 mm quindi se vogliamo fare questo leave switch ma siamo sempre in un'area comunque di comfort perché quello che non abbiamo sul 24-70 ce l'abbiamo sul 70-200 quindi con queste due lenti sostanzialmente già abbiamo coperto il 94% di quello che ci può servire nella vita anche in questo caso abbiamo un 24-70 f2.8 e un 24-70 di solito f4 che di solito è anche stabilizzato poi questo dipende dal brand però anche qui è possibilissimo che abbiamo diverse opzioni addirittura mi pare di ricordare che ce n'era una versione low budget che aveva il diaframma variabile quindi se ricordo bene un 24-105 che partiva da f3.5 che arrivava a 5.6 o 7.1 non mi ricordo comunque ce ne potrebbero essere diverse versioni a seconda del budget che abbiamo a disposizione e dell'utilizzo che ne dobbiamo fare ovviamente il 24-70 è un'ottica che io ho consumato l'ho usata tantissimo e la uso ancora tantissimo perché è forse la lente che mi permette di fare più cose in assoluto io se devo fare un evento posso andare col 24-70 se devo fare un matrimonio, un battesimo, una cerimonia posso andare col 24-70 e potrei quasi usare solo quello poi se ho dell'altro meglio posso fare più cose però potrei cavarmela anche solo con quello posso andare a fare un concerto posso fare fotografia in studio col flash o con luce fissa posso fare fotografia prodotto posso fare un minimo di macro per degli oggetti non più piccoli di un piatto normale quello da pranzo posso usare anche il 24-70 per fare un po' di macro posso fare paesaggio perché col 24 mm posso fare un minimo di paesaggio posso fare un po' di foto di interni perché comunque col 24 e col 35 un po' di interni un po' di architettura riesco a farli posso fare ritratto in tutte le guise possibili perché posso fare ritratto col 24 ritratto col 35 col 40 e col 50 sì si può fare io non lo uso tanto però c'è anche quello e si può fare ritratto col 70 ti manca l'85 questo è vero però comunque con queste due lenti già copri tutto se vogliamo scendere ancora di più abbiamo il 1740 che mi pare sia un po' un'esclusiva di Canon perché la maggior parte dei brand Canon inclusa hanno invece il 1635 un'ottica che ho avuto modo di provare anche nella versione Lumix vi lascio linkato alla playlist dove ho parlato di questa bella esperienza con Panasonic dove ho avuto modo di provare diverse cose il 1635 di Panasonic certificato da Leica è una lente bellissima quindi mi sono stra divertito con quell'ottica costruzione meravigliosa molto molto bella quindi questo per dirvi che tutti i brand hanno più o meno un corrispettivo e performano più o meno tutte abbastanza bene il 1635 è un'ottica che io adoro è forse l'ottica che uso di più per me stesso più che per i clienti per i clienti ci vogliono delle cose standard ma per me stesso quando sono in giro per divertirmi io di solito uso il 1635 o il 1435 che ho comprato di abbastanza di recente e lo uso solo su mirrorless quindi ho anche un video già pubblicato su questa lente vi lascio linkato da qualche parte anche quello mi piacciono molto queste due lunghezze focali perché permettono di abbracciare una porzione di scena molto ampia e questo mi permette se sono in giro se sto visitando qualcosa mi permette di mettermi davanti agli altri quindi io non ho più gente davanti vado più avanti di tutti perché la maggior parte delle persone devono andare più indietro per fare quella foto io invece vado più avanti quindi supero le persone e riesco a fare la foto dell'attrazione quale che essa sia prendendola per intero ma senza nessuno davanti questo è uno dei motivi per cui mi piace tantissimo il 16 e il 14 l'altro motivo ovviamente è che siccome io faccio tanta foto di architettura e foto di interni con il 16 e col 14 riesco a prendere la stanza intera non importa che stanza sia ho visto che bene o male col 16 mm me la cavo sempre col 14 mm me la cavo meglio nel senso che ho un pelino di angolo di campo in più che insomma schifo non fa vuol dire che se me la cavavo lo stesso col 16 col 14 me la cavo e sto anche più comodo quindi è una comodità in più inoltre il 14-35 l'ho montato su Canon EOS R quindi ha una bella qualità una bellissima pasta perché comunque ha lo stesso sensore della 5D Mark IV ovviamente con un 16-35 si può azzardare di fare anche un minimo di ritratto sì non dico di no è una lente già un pochino più specifica perché secondo me col 16-35 si fanno paesaggi e interni secondo me la cosa è questa un po' di sport magari perché anche qui esiste la versione da F4 stabilizzata e la versione da F2.8 almeno per Canon non sono sicuro sugli altri però anche qui hanno fatto questo giochino di differenziare quindi possiamo scegliere quella che è più adatta per quello che dobbiamo fare noi però rimane comunque una lunghezza focale secondo me meno versatile del 24-70 quindi io la uso per fotografia di viaggio e la uso per interni, la uso per architettura, la uso per paesaggio basta le altre cose tendo a non farle anche perché se io volessi fare il ritratto col 35 qui ci sarebbe da aprire un discorso a parte sarebbe meglio avere un 35 focale fissa come quello che sto usando in questo momento per fare questo video che vedete che sfoca piacevolmente lo sfondo cosa che l'F4 difficilmente arriva a fare l'F2.8 un pochino di più però è una lente che costa molto di più e francamente per la focale che ha io sconsiglio l'acquisto del 2.8 perché secondo me un'ottica come questa la morte su è l'F4 costa un po' di meno tanto per paesaggio e architettura lo usiamo a F8 quindi non ci tocca molto bene amici ma arrivati a questo punto vi chiedo che cosa ne pensate di questo setup che cosa ne pensate di un setup fatto in questo modo siete più per gli zoom o siete più per le ottiche prime in questo video io vi ho fatto una carrellata di quelle che sono secondo me delle ottiche che potrebbero essere le prime che volete comprare nel senso che se avete queste ottiche potete fare qualsiasi cosa riuscite a cavarvela in qualsiasi contesto e avrete bisogno sì di qualcos'altro perché magari avrete bisogno di un'ottica fissa specifica o di un'ottica macro specifica o di un fisciaio di un super tele di un 800 mm magari c'è qualche cosa particolare in più che vi può servire però diventa molto difficile trovare qualcosa che vi manchi se avete queste tre lenti perché veramente fate qualsiasi cosa con queste tre ottiche a questo punto io non mi dilungo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate anche un bel like a questo video ci vediamo prossimamente con un altro episodio dedicato alle ottiche prime io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao